Aspetta, aspetta, aspetta che quest'intro la voglio fare, buoni! Fanta Sanremo, ve l'avevo promesso e quest'anno allora parte la serie di video dedicate al fantasy game dello show più importante e visto d'Italia. Perché non mi seguo abitualmente? Io sono Lorenzo Cantarini e parlo principalmente di fantacalcio, ma ho un passato molto recente da musicista e questo canale infatti, prima del mio famoso video su Antonio Conte, era un canale musicale e... segreto? Ho partecipato pure a Sanremo giovanissimi! E allora chi meglio di me può fare da join tra due mondi apparentemente distanti, cioè quello di Sanremo e quello del fantacalcio? Vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, mettere il like se questo video vi è piaciuto, seguitemi su Instagram, Lorenzo Cantarini Official, visto che farò altri contenuti sul Fanta Sanremo anche lì, e se fate il fantacalcio ogni settimana troverete il mio studio completo per schierare la formazione. Se siete qua è perché già sapete cos'è Fanta Sanremo e volete vincerlo. Insomma, allora colleghiamoci subito al sito fantasarremo.com, registratevi, vi ricordo che potete registrare fino a 5 squadre ed iscrivervi a massimo 25 leghe. Io farò la lega del mio canale YouTube, si chiamerà Fanta Canta Sanremo ed in palio ci sarà la maglia della vostra squadra del cuore. E in più mi appoggerò anche alla lega di TV Play, la TV sul canale Viola, nella quale farò le dirette per Fanta Sanremo. E la lega si chiamerà Fanta Sanremo TV Play. E poi lì vi dirò su Instagram e nei prossimi video quando sarà possibile iscriversi ad entrambe le leghe. Ma poi potete creare leghe per sfidare i vostri amici o partecipare ad altre leghe già create. Ci sono leghe fatte ad esempio da parrucchieri per i clienti, da tatuatori che mettono in palio tatuaggi, insomma come per il Fanta Calcio. Dobbiamo vincere il Fanta Sanremo. Vi ricordo che ci si potrà iscrivere fino a lunedì 5 febbraio alle 23.59. E vabbè iniziamo dal regolamento, cerchiamo come per il Fanta Calcio di sfruttare ogni cavillo e ogni particolarità del regolamento per avere un piccolo vantaggio sui nostri avversari. Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara. Dici Lorenzo cosa sono i baudi? Sono la moneta immaginaria del Fanta Sanremo, tipo i soldi del Monopoli insomma. Oppure i babbo dollari che ho fatto ai miei figli, è vero gli ho fatti i babbo dollari, che volete? È obbligatorio schierare una squadra di 5 cantanti e nominare Capitano uno di loro e dopo vedremo il perché del Capitano. A partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale, verranno assegnati bonus e malus ai cantanti, attribuiti in base al regolamento che trovate sul sito di Fanta Sanremo e che andremo a vedere in questo e nei prossimi video. Riferiti ad azioni compiute dal cantante o eventi che lo coinvolgono sul palco o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festival. Insomma, tutto ciò che avviene prima e dopo il Festival non verrà conteggiato. Tutto ciò che avviene al di fuori del palco di Sanremo, salvo pochi casi che andremo a vedere, non verrà conteggiato. La somma di questi bonus e malus andranno a comporre il punteggio di ciascun artista. E abbiamo parlato del Capitano, perché è importante scegliere bene il Capitano della nostra squadra? Perché i bonus e malus dell'ultima puntata dell'artista nominato Capitano varranno doppio. E nella serata delle cover, cioè quella di venerdì, sarà considerato valido ai fini dell'assegnazione dei bonus e malus relativi all'artista in gara anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all'artista stesso. Vince la Lega chi, terminata l'ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti sommando il punteggio di ognuno dei cinque cantanti scelti nella propria squadra per ognuna delle cinque serate. Semplicissimo. Vabbè Lorenzo, come scegliamo i nostri cinque cantanti? Andiamo a vedere i bonus e i malus e cercheremo di capire chi tra i 30 cantanti potrà ottenere il punteggio più alto. I bonus sono tantissimi, ho cercato di dividerli in cinque macro categorie. Bonus legati alla classifica, bonus outfit, bonus del pubblico, bonus artista e bonus scaletta. E ogni cantante ha la sua forza in una categoria piuttosto che in un'altra. Andremo a vedere quali bonus e quali malus pesano di più. Perché voi pensate che sia importante scegliere i cantanti che arriveranno primi nella classifica finale? È ovvio che lo è, ma attenzione, che la classifica finale sia importante, ma non è decisiva. Nei tre anni precedenti, infatti, è vero che sia Emaneskin che Mengoni hanno fatto il doble, cioè vincendo sia Sanremo che la classifica del Fanta Sanremo. Ma ad esempio nel 2022 Mahmood e Blanco sono arrivati primi sul palco, ma ottavi al Fanta Sanremo. Quindi, attenzione. Vabbè, intanto andiamo a vedere i partecipanti. Ve li ho raggruppati per quotazione. Allora, a 23 baudi, dunque più quotati, troviamo le quattro ragazze. Alessandra Moroso, Anna Lisa, Angelina Mango ed Emma. Quattro artisti anche a 22 baudi. Joliet, Negramaro, The Colors e Darjean D'Amico. A 21 baudi troviamo Mahmood, Diodato, Mr. Rain e San Giovanni. Mentre a 20 baudi troviamo Il Volo, Fiorella Mannoia, Renga Neck, Gali e Alfa. 19 baudi per Irama, Gazelle, Rosa Villan e La Sad. Mentre a 18 baudi troviamo Loredana Bertè, Fred De Palma e i ricchi e poveri. 17 baudi per Il Tre, Big Mama e Mannini. E infine 16 baudi per Bunker 44, Clara e Santi Francesi. Dunque capite che non è che potete fare la squadra con Amoroso, Angelina Mango, Annalisa ed Emma. Insomma dovete per forza compensare i vostri top con gli artisti emergenti quotati meno baudi. E nel prossimo video andremo a vedere i bonus legati alla classifica. Andando a vedere i bookmakers su chi puntano come favoriti. Andando a vedere come si sono comportati gli artisti nei Sanremo precedenti. E soprattutto andando a vedere le recensioni delle canzoni da parte dei giornalisti che le hanno ascoltate. Nel frattempo vi ricordo che gli altri contenuti saranno nel mio profilo Instagram, Lorenzo Cantarini Official. E nelle mie live qui su YouTube e con gli amici di Fanta TV Play. E basta, un saluto dal secondo divano più famoso del web. Se hai capito la battuta, sei uno zozzone. Andando all I want to be.